gomma siliconica al crystal rubber della Prochino salve a tutti ragazzi e ragazze oggi vi faccio vedere il mio nuovo acquisto cercavo una gomma siliconica che fosse trasparente per poter fare degli stampi trasparenti dove poter vedere le mie colate ed ho trovato questa gomma siliconica qui si chiama crystal rub è una gomma siliconica trasparente che serve per fare gli stampi che sono elastici e siano anche antiaderenti quindi tranquillamente non c'è bisogno di prodotti che vengono inseriti all'interno per poter far distaccare la resina quando si fa la colata interna questa gomma siliconica è 100% di silicone quindi è puro se vogliamo dire come componente ed è per questo che comunque ha delle potenzialità ovviamente diverse da altre gomme siliconiche allora questa gomma siliconica ho preso appunto quindi se mi vedete girare ogni tanto gli occhi perché ho dovuto vedere un po' come si utilizzava allora per utilizzare questa gomma siliconica è semplicissima come tutte le altre gomme siliconiche che abbiamo trovato da colata anche di altre marche di altre case eccetera eccetera io ho sempre utilizzato quella della Prochima però ce ne sono tante in commercio allora come si utilizza si utilizza con una proporzione 10 a 1 io ho detto 10 a 1 perché dobbiamo mettere 10 grammi di gomma siliconica con un grammo del suo vulcanizzatore quindi ho fatto questa proporzione perché lì dicevo un 10% però io di solito faccio sempre in proporzione quindi 1 a 10 ok quindi così vi rimane anche più semplice potete anche se non avete una bilancia per pesarlo potete utilizzare un misurino di quelli che misura in cc e ogni grammo lo trasportate come un cc quindi un cc di vulcanizzatore 10 cc della gomma siliconica allora questa gomma siliconica è una gomma che vulcanizza in 6-8 ore come si utilizza allora una volta che abbiamo messo i due componenti insieme dobbiamo mescolare per circa un minuto ovviamente come voi sapete spesso e volentieri le gomme sia la gomma che la resina crea delle bollicine questa cosa ovviamente nello stampo è ancora peggiore da ovviamente se lo utilizzate peggiore più di quando invece si furono le bollicine nella resina forse nella resina potrebbero anche essere carine viste mentre nella gomma siliconica potrebbe rovinare la nostra lavorazione quindi che cosa possiamo fare siccome questa gomma siliconica è atossica quindi possiamo prendere il nostro contenitore che abbiamo ovviamente dove abbiamo mescolato la gomma siliconica col vulcanizzatore e metterlo per un paio d'ore nel frigorifero ovviamente coperto anche se non ne sprigiona fumi non da problemi all'interno però ovviamente è sempre una cosa in più metterlo in un barattolo di vetro lo chiudiamo ma aspettiamo un paio di ore cioè non proprio chiusi ermeticamente lo lasciate un pochino aperto in modo che l'aria e le bollicine salgono tutte in superficie una volta che sono salite in superficie è più facile o romperle o quindi cioè o togliere lo strato proprio delle bollicine perché un tot è fatto tipo una schiumina quindi che cosa facciamo dopo passate le due ore nel frigorifero la tiriamo fuori la lasciamo ovviamente la riportiamo a una temperatura sui 30 gradi e la facciamo vulcanizzare vulcanizzo detto in 6-8 ore la cosa splendida di questa gomma siliconica che per chi come me non sa realizzare degli stampi bivalva si può utilizzare in maniera molto semplice quindi con una colata possiamo fare il nostro stampo bivalva non fa se voi lo sapete perché io ho scoperto che si è a bivalva quindi come non lo sapevo io potanzi che ero l'unica a non saperlo sulla faccia della terra sarebbero quegli stampi che poi si separano per togliere l'oggetto all'interno e si chiudono per farci dentro la colata ecco qual era la cosa però fare quegli stampi è un pochino complesso io ho provato più di qualche volta a farli non mi sono venute poi ci vuole un distaccante c'è qualcosa che poi non faccia comunque aderire le due parti e quindi la cosa è complicatissima e a me le cose complicate non mi piacciono allora che cosa facciamo come possiamo realizzare questo stampo per realizzare questo stampo io vi rimando al video della seconda parte perché così vi farò vedere proprio effettivamente come si fa però adesso vi do qualche indizio allora quando noi ovviamente dobbiamo fare lo stampo di un qualcosa che è tridimensionale perché finora abbiamo fatto non so gli stampi dei cabochon dei cameo che quindi hanno una parte piatta ma se io ad esempio volessi fare lo stampo di un qualcosa che è tondo oppure di un di un oggetto che è tridimensionale io voglio fare lo stampo di questo pennarello se io lo poggio ovviamente qui mi viene male allora che cosa dobbiamo fare mettiamo all'interno di un contenitore il nostro pennarello poggiato in maniera verticale questo ovviamente essendo dritto potremmo anche poi una volta fatto lo stampo colarci dentro la resina io in particolare cioè dovrei prendere ecco allora guarda facciamo questo che è più elaborato vedete abbiamo un anello che ovviamente ha una struttura tridimensionale allora che cosa facciamo sollevando la prima parte oppure facendo una prima colata di gomma siliconica di uno spessore piccolino mettiamo qualcosa per poter poi fare la colata quindi non so un cilindrino di fimo o di quello che sia e facciamo la seconda colata e questo è più elaborato altrimenti poggiamo il nostro anello mettiamo sempre qualcosa che ci permetta poi di poter fare la colata in maniera esatta in maniera giusta e un qualcosa sempre in fimo che mi permetta poi di inserire dentro la resina allora è più difficile adesso che ve lo spiegavo è più complicato sembra una cosa difficilissima ma nel secondo video vi farò vedere come si realizzano perché questa gomma siliconica una volta fatto lo stampo si potrà tagliare con il taglierino separare le due parti e poi ricongiungerle per poter fare all'interno la colata ora senza che mi dilungo nel video nel cosa perché comunque è meglio che ve lo faccio vedere adesso vi lascio con ovviamente questa è la gomma siliconica ve lo ricordo crystal rubber è una gomma trasparente che vi farà vedere ovviamente all'interno dei vostri stampi che cosa accade ciao ragazzi e ragazzi